La collezione di Caravan Eriba per il 2019 guarda con grande interesse alle esigenze della famiglia numerosa. La serie Living si arricchisce infatti di due nuovi modelli, tra cui la 555XL. Prima Caravan del costruttore tedesco è proporre in code il letto matrimoniale basculante. Questo sovrasta una dinette AU, anch'essa trasformabile in letto matrimoniale, per lasciare alla zona centrale il compito di accogliere i servizi con la toaletta, fronteggiare il blocco cucina e anteriormente i più piccoli, grazie ad un ambiente a loro dedicato con letti a castello lungo la parte di destra e dinettina su quella sinistra. In totale quindi sono 7 i posti disponibili. Un posto in meno, 6, in un abitacolo ancora più grande e accogliente per la nuova Eriba Living 560, caravan da 677 cm di lunghezza e 250 cm di larghezza, pensata per offrire la massima comodità in sosta al proprio equipaggio. Offre infatti un letto matrimoniale anteriore longitudinale, affiancato alla toaletta, con locale WC e doccia anteriori e lavabo esterno all'americana. Una zona centrale in cui trovano collocazione blocco cucina a sviluppo lineare e un'immensa dinette laterale AU, mentre in coda ecco i letti a castello trasversali. Un importante restyling interessa invece una delle collezioni Miraglia, la Eriba Nova GL, che è rivista negli esterni con nuove grafiche ma soprattutto completamente arredata a nuovo negli interni, ora giocati su tinte più chiare e luminose, ben abbinate a elementi laccati in tinta champagne. Sono 7 i modelli disponibili, tra cui la Nova 485 GL, caravan da 578 cm di lunghezza e 230 di larghezza, dedicata alla coppia. Offre infatti una maxi dinetta AU anteriore e una vera e propria camera posteriore con letto matrimoniale longitudinale, affiancato dalla toaletta.